Buongiorno a tutti, ciao e grazie di essere qui con noi. Questa mattina si svolgerà la conferenza stampa dove presenteremo il progetto è sabato in piazza. Avete visto che avete sfogliato un comunicato che di informazioni ce ne sono molte. Io partirei presentandovi i relatori e ringraziando l'ospitalità, sindaco grazie e grazie a chi ci fa compagnia in questa conferenza stampa. Poi abbiamo Francesca che è il co-presidente di Supernova, poi lei vi racconterà che cosa stiamo facendo e chi siamo. Laura, anche lei fa parte dell'associazione Supernova. Manuela invece che è il capo progetto, insomma il capofila del progetto Dialoghi Futuri, anche lei poi vi racconterà perché ci siamo presenti con due realtà diverse. A me mi conoscete quindi faccio semplicemente un supporto come segreteria organizzativa. Grazie. 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 Grazie.